E' necessario un dibattito culturale, dobbiamo parlare di decentramento, di decisione vicino al cittadino, dobbiamo iniziare a spiegare che l'accentramento non equivale a velocità ed efficienza, anzi tutto il contrario, perché spostare la decisione lontano dal cittadino significa aumentare la corruzione, complicare la pratica del controllo. I cittadini non sanno quello che avviene all'interno delle istituzioni e si allontanano dalla vita pubblica. Portiamo le decisioni vicine al cittadino e diamo gli strumenti al cittadino di farlo. Da parte mia ho presentato una proposta di legge costituzionale per introdurre questi strumenti di partecipazione a livello nazionale, non solo locale. Inoltre in discussione una proposta di legge costituzionale per tutelare i ladini, ma non solo, a livello di Trentino Alto Adige, anche le altre minoranze linguistiche, gruppi linguistici come i CIMPRI e i Mocchini, dando la possibilità ad esempio ai rappresentanti di queste comunità di gruppi linguistici di convocare un consiglio straordinario sia in provincia che in regione per parlare dei diritti di minoranze linguistiche. Stiamo lavorando per dare più diritti. La verità è che se questo non si trasforma in una coscienza collettiva diversa, diventa inefficace.